Giovedì 31 dicembre, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi carissimi telespettatori. Siamo giunti all'ultimo giorno dell'anno, l'ultimo giorno di questo 2015. Siamo qui in diretta, come sempre, per dare un'occhiata ai giornali. E lo facciamo con il nostro touchscreen tra pochissimo. Adesso vediamo invece il calendario con il santo di oggi, che è un santo famoso perché è citato per raccontare le feste e i preparativi per il cenone di San Silvestro. Quindi noi parliamo di questo San Silvestro I Papa. Il sole è sorto alle 7.41 e tramonterà presto alle 16.40. Allora, per oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature in diminuzione. I venti sono di brezza tesa, non c'è la nebbia, non c'è l'umidità. Quindi anche stamattina alle 7, insomma, la temperatura era all'incirca di 7 gradi sulla costa. Io sto parlando della città di Fano, naturalmente. Quindi una giornata comunque, seppur nuvolosa, gradevole rispetto a quelle precedenti che ci hanno preceduti perché era caratterizzata da quel freddo umido fastidioso. Stasera, attenzione alle gelate nelle zone interne e al primo mattino. Foschi e banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata. Domani, primo giorno dell'anno. Che cosa ci attende dal punto di vista meteo? Un cielo poco parzialmente nuvoloso, con temperature in lieve aumento, alcun po' di vento di brezza, il mare sarà poco mosso. Mentre il 2 di gennaio, ecco il cambiamento annunciato dai meteorologi con l'arrivo della pioggia e anche della neve sugli appennini. Le maggiori accumulate saranno nelle zone interne, nel settore centro-settentrionale della regione. Tutto questo nella seconda parte della giornata. Ci saranno queste precipitazioni nevose solo sulle cime più alte però degli appennini. Per quanto riguarda i prossimi giorni, la protezione civile delle Marche che prevede una prima parte della settimana caratterizzata da episodi di instabilità dovuti al probabile transito di saccatura in successione. Poi la seconda parte invece della settimana con probabile formazione di un anticiclone e quindi di nuovo tempo stabile. Allora, leggiamo i giornali, cominciamo dal resto del Carlino. Guardate questa fotografia, la fotografia si riferisce al piromane che qualche giorno fa ha incendiato alcuni motorini parcheggiati davanti a una scuola guida a Pesaro. Il giornale è riuscito ad entrare in possesso del filmato, di un filmato, di una telecamera a circuito chiuso e lo ha visionato e quindi ha descritto chi può nascondersi sotto questo cappuccio. Un uomo dall'apparente età di 40-50 anni con una camminata strana, con il piede destro storto, grassoccio, impacciato, vestiti del mercato, insomma un po' impacciatello. Quindi probabilmente non si tratta di un professionista e quindi di conseguenza potrebbe essere uno un po' disturbato che ha voluto fare questo gesto così eclatante ma senza un motivo importante dietro, insomma una cosa un po' così. Due donne passavano lì vicino, potrebbero averlo riconosciuto. Questi movimenti impacciati fanno pensare dunque ad un improvvisato falò. Le indagini hanno escluso dunque ritorsioni o avvertimenti lanciati ai danni della scuola guida Bassani. Il titolare è comunque resta esterefatto. E questa è la notizia che troverete sul giornale e sul resto del Carlino. Andiamo subito sulla pagina di Fano perché c'è una bella carrellata di foto a Marcord di una città che naturalmente negli anni è cambiata. Stiamo parlando del distributore che si trova vicino a, su Viale Gramsci dove praticamente si svolge il Carnevale di Fano. Ebbene, sopra ci sono invece da sinistra com'era questa zona. Allora allarghiamo l'immagine, allarghiamo l'inquadratura, allarghiamo il test screen. Dunque, vedete questa panoramica di via Gramsci con il distributore di benzina Agip, con il giardino poi della Fontana. Questa è via Le Gramsci dove si svolge il Carnevale. Poi questa invece è la Fontana che adesso non c'è più, dove qui c'è invece il Vittoria Colonna. E questa invece è una vecchia immagine di com'era il primo distributore Agip realizzato sull'area dei giardini pubblici. E questo invece è come oggi. Eccolo qua. Guardate. Questo qui verrà smantellato, tant'è che è ormai chiuso da un po' di tempo. Verrà bonificata tutta la zona all'inizio del prossimo, cioè adesso all'inizio dell'anno. Dopodiché l'idea sarebbe di ripristinare i giardini originari. Il che sarebbe veramente una bellissima idea, quella di ripristinare i giardini originali. Anche perché tanto farne un parcheggio lì, dice o non dice, ci staranno pochissime macchine. Un conto è farlo a due o tre piani sotto e allora è un discorso, ma sarebbe un'opera gigantesca. Poi non è aria con la crisi che c'è. Però, ecco, quindi piuttosto che metterci lì poche auto, sarebbe bello invece, visto che di auto ne passano tantissimo in quella zona. Tra l'altro lì vicino c'è anche la centralina di via Montegrappa, che ieri proprio ci ha detto che lo smog ha superato i limiti almeno 40 volte. Quando il limite sarebbe in città in un anno di 35, poi sei illegale. Ecco, insomma, lì un bel giardino non sarebbe male. Andiamo adesso a vedere... Posso pensare anche già ai commenti, sì, a respirare un po' di aria buona. Andiamo nei giardini a respirare. Ma chiaramente non è un giardino dove starci tutto il giorno. Però, insomma, magari per chi passa è un'immagine, diciamo che è una cosa più di immagine ed estetica che si possa fruire, insomma. Pagina 17 del resto del carino troviamo invece il caso della Croce Azzurra. Arrivano due mesi di stipendio per gli autisti, ma pure le lettere di licenziamento. L'amarezza di questi lavoratori che dicono viviamo nel terrore. Il Tribunale di Pesaro ha accolto alla richiesta della Croce Azzurra di recedere dal contratto di cessione di ramo d'azienda con la Solaris. Spariti 50 posti letto per i ricoveri. Parliamo di sanità. La denuncia del forum Bene Comuni convertiti in posti di assistenza negli ex ospedali di Cagli e di Sasso Corvaro. Tra l'altro il sindaco di Sasso Corvaro, disperato, dice che non abbiamo più il pronto soccorso. False firme per le liste elettorali. Nei guai anche Luca Bartolucci. Chiesto il processo per l'allora presidente della provincia. Stessa accusa per Olmeda, Tomassoli e Di Domenico. Decide la perizia graffologica disposta dal procura. Spaccata da Prodi Sport. Parliamo di Prodi Sport a Pesaro, non il negozio di Fano. Quello di Pesaro via con i soldi e con i giacconi. Successo ai danni di Prodi in largo Ascoli Piceno. Due malviventi sono riusciti a rompere con dei tombini la vetrina a doppio strato e ad aprirsi un varco. La conferenza di fine anno della Polizia di Stato. In questura ieri furti giù, ma le rapine crescono insieme alle truffe e alle frodi. È stato un anno intenso per la Polizia di Stato. I dati e il confronto con il 2014. Sono importanti e molto significative le parole del questore di Pesaro che ieri in conferenza ha detto chi arriva a Pesaro con le idee buone è benvenuto, in caso contrario useremo il nostro insetticida. Poi tra i vari dati e i vari numeri spiccano i divieti contro i tifosi violenti, quindi DASPO, che si chiama DASPO, che vanno giù dai 21 del 2014 fino ai 4 dell'anno che sta per terminare. Quindi solo 4 persone non potranno andare allo stadio per fatti, reati, eccetera, eccetera, legati ovviamente sempre più che altro al teppismo, a quelle cose lì, insomma. Non certo perché vanno allo stadio a fare il tifo per la loro squadra. Sarà un capodanno fatto in casa, invece è il titolo del Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. Grandi adesioni per la festa in piazza 20 settembre, ma gli albergatori avvisano non ci sono turisti in giro e si deve fare di più. La fortuna è un brand conosciutissimo in tutto il mondo, dobbiamo lavorare per richiamare i visitatori. Poi sotto, stelle in cucina, gli chef, i veri grandi protagonisti e mattinata senza acqua per invece alcuni ristoratori, i gestori del fish house che sono al porto turistico, pur consapevoli, dicono, della necessità degli interventi che ci sono da fare in questa zona, siamo comunque molto, siamo rimasti molto amareggiati. Si tratta di lavori alla rete idrica che hanno provocato tanti disagi, soprattutto per gli operatori dell'area di Marina dei Cesari. L'Africa chiama, Fano risponde, l'Onlus ha sostenuto, che ha sede a Fano, ha sostenuto 20.000 bambini in Kenya, in Tanzania e in Zambia. Poi vedete sempre qua sulla pagina di Fano del Corriere gli auguri speciali di Alaimo, con la magica voce del grande Alaimo, per il concerto di Capodanno a teatro. A Pesaro una pioggia di note sotto le stelle, saranno musiche e danze le protagoniste della festa di San Silvestro in Piazza del Popolo a Pesaro. Poi anche qui la cronac con i ladri che sono entrati in azione al negozio di Prodi a Pesaro. Poi la pagina invece del messaggero, darò una scossa all'economia, sono le parole del sindaco Matteo Ricci, con 30 milioni di investimenti pubblici nel 2016 vedrete i risultati. L'amministrazione ha cambiato passo e gli imprenditori hanno capito e dunque ci stanno seguendo. Fanno saltare il Bancomat e portano via 25 mila euro, è successo a Pergola, un boato nella notte alla filiale della Banca Toscana, in azione due ladri. Welfare, le nuove sfide della cooperativa Labirinto, Simona Giommi, coordinatrice del centro antiviolenza, è stata nominata presidente. Poi qua in alto sotto la testata ancora notizie che riguardano Urbino, l'albero di Natale scattano gli esposti a Procura e Corte dei Conti, mentre per lo sport, sempre da Pesaro, niente feste, la VL già al lavoro per il Big Match, e poi la nuova Vis, targata a Maolo, pareggia con la Forte Gatteo. Buoni segnali dall'amichevole, l'allenatore dice, mi è piaciuta, il nuovo allenatore della Vis dice, mi è piaciuta la squadra, la sua aggressività, mentre sul fronte del Fano Calcio, l'Alma Juventus Fano, nelle pagine interne, a pagina 47 del Messaggero, troverete anche l'intervista a Canestrari, che è il direttore sportivo dell'Alma, che è ottimista e dice, bel clima ed entusiasmo ritrovato. La questura nella sede della Banca d'Italia spunta l'ipotesi di un possibile utilizzo dei locali dell'istituto, mentre sono in corso verifiche sul Palazzo dell'Intendenza. La pagina di Fano invece, ovviamente in primo piano, canzoni, risate e brindisi per salutare l'anno nuovo, via a Lungoveglione di San Silvestro, in Piazza 20 Settembre, e in teatro, dal Belcanto alla Scuderia di Amici, fino ai comici del San Costanzo Show, che come abbiamo già detto sono all'interno del teatro. Sul palco all'aperto anche il rapper Kappa e Morselli di Zellig, botti vietati, lo ricorda il giornale, fino all'Epifania. Ma gli albergatori sul fronte del turismo parlano delle feste, dicono che vanno bene, ma ci vuole una migliore promozione. Quest'ultima rassegna stampa del 2015 termina qui, quindi non mi rimane altro che augurarvi un buon anno da parte mia, da parte di tutta la redazione di Occhia Notizia, di Fano TV, tutti i dipendenti, collaboratori, volontari e quant'altro. Quindi l'augurio di passare una bella serata, ovviamente in compagnia questa sera, per chi può. Siamo vicini naturalmente anche a coloro che invece sono soli e anche quelli che non stanno poi così bene di salute. Quindi forza e coraggio e speriamo che il 2016 ci riservi tante belle sorprese e soprattutto serenità. Intanto, prima di salutarvi, vi ricordo che alle 5 del pomeriggio oggi, su Fano TV, trasmetteremo dalla Basilica Vaticana i Vespri e il Tedeum di ringraziamento per questo anno che si chiude con il Papa, Papa Francesco. E poi invece alle 20.30 trasmetteremo il discorso in diretta del Presidente della Repubblica Italiana, Mattarella, anche noi in diretta, subito dopo i fatti del 2015, raccolte dalla nostra redazione, tutti i fatti più importanti che sono accaduti nel nostro territorio. di nuovo a voi tutti ancora. Buon anno.